Musica Covid, 7 decessi in 24 ore ma ricoveri ancora in calo nella regione. L'aeroporto delle Marche sono arrivate 38 mila dosi di vaccino Pfizer, il punto con il direttore degli ospedali riuniti di Ancona Michele Caporossi. Grazie a chi ogni giorno aiuta a salvare le vite, l'assessore regionale Stefano Guzzi e il responsabile della protezione civile David Piccinini in visita nei punti vaccinali, volontari in prima linea da oltre un anno. Dietro fronto sulle scuole superiori si torna in classe al 60% e ancora da sciogliere il nodo dei trasporti. La regione sigla un accordo per garantire il diritto allo studio a casa o in ospedale ai ragazzi affetti da gravi patologie. Basse temperature e coprifuoco alle 22 ristoratori al lavoro per le riaperture tra rabbia e perplessità. C'è chi attende la fine del mese o chi non potrà farlo per mancanza di spazi all'aperto. Queste discriminazioni come dice lei o comunque questi lavori fatti un po' con i piedi non ci saranno mai, non ne usciremo mai. I paletti degli ombrelloni fanno la loro comparsa sulle spiagge, al lavoro anche i bagnini ottimisti per la prossima stagione balneare. Speriamo che si possa vivere più in tranquillità e che con i vaccini e tutto si possa ripartire in modo definitivo. Si chiama l'arte della gioia ed è l'ultimo libro del marottese Enrico Vergoni, le poesie dello scrittore che trasmettono positività e fiducia nell'avvenire dopo un duro anno di pandemia. Un cordiale saluto dalla redazione di Occhio alla notizia in apertura sopra il luogo al codman di Rosciano Afano, dell'assessore regionale Stefano Guzzi e del responsabile della protezione civile delle Marche Piccinini. Si è trattata di una delle visite organizzate in giornata per ringraziare i tanti volontari. Ha visitato i punti vaccinali di Ancona-Senigallia e Fanno l'assessore regionale Stefano Guzzi, che ha iniziato in mattinata il tour insieme ai vertici della protezione civile delle Marche e della provincia pesarese, guidati dal direttore del servizio David Piccinini. Non l'ho fatto prima, ha spiegato l'assessore, perché non amo le passerelle, ma ho sempre seguito da lontano l'organizzazione. Ora però è arrivato il momento di ringraziare chi, da più di un anno e con grande amore e senso civico, si mette a disposizione della collettività, contribuendo a salvare vite umane. Oggi noi stiamo vaccinando gli uteri 65 anni, abbiamo terminato gli uteri 70 anni, siamo a buon punto nelle Marche degli uteri 70 anni, anche per la seconda dose, una delle prime regioni insieme all'Emilia Romagna, al di là di qualche polemica iniziale che, come sempre, c'è. E quindi mi è sembrato più che doveroso, come assessore della protezione civile, fare oggi un giro e ufficialmente ringraziare che ogni giorno, da tempo, lo fa e lo farà ancora per i prossimi mesi, dà una mano ogni giorno a salvare le vite. Ho visto per davvero una macchina molto funzionale, è un'organizzazione ottima da parte quindi della sanità e di tutto quanto ruota intorno a questo tipo di attività. Ho visto anche, io oggi ho visto luce in fondo in tunnel, il Covid continuerà ad esserci, di Covid continuerà ad essere timorosi e attenti, ma sicuramente non vedremo più i drammi che abbiamo visto purtroppo da un anno a questa parte. Ci riprenderemo poco a poco le nostre vite e per questo dovremo ringraziare tanti volontari e tante persone che hanno operato in questo senso, da tutto il mondo della sanità, da tutto il mondo della protezione civile e del volontariato. Al Codma di Rosciano, come hanno poi spiegato il presidente del CB Club Mattei Saverio Livi e il dottore Eugenio Carlotti dell'Asur Area Vasta 1, è pronta anche la parte superiore della struttura che, dosi di vaccino permettendo, potrà ospitare ulteriori otto postazioni. Queste andrebbero ad aggiungersi alle quattro già operative al piano terra. Per ogni postazione, per una linea di media, si fanno circa sui 100 vaccini al giorno, per cui 115, siamo sugli 11-12 mila vaccini al giorno con l'attuale sistema. Chiaramente questo non considera i punti sanitari, gli ospedali e gli altri, o i punti di prossimità gestiti dai medici di base che stanno in parte partendo e in parte sono partiti. Faccio riferimento alla provincia di Fermo, la provincia di Ascoli Piceno, lo stesso Macerata sta partendo, Ancona, la provincia di Pesa si sta attrezzando anch'essa per poter fare questi punti di prossimità dove i medici di base organizzano un numero chiaramente più limitato di vaccini rispetto ai punti precedenti, ai 18 punti regionali. Quanti sono i totali volontari della protezione civile che operano nella nostra regione? Interessante, quelli che sono in regola con le abilitazioni sono circa 10.000, quelli che quotidianamente operano sui 18 punti vaccinali sono una media di 160 al giorno, però tutti i giorni, sabati, domeniche, Pasque compresi, quindi dicevamo che a loro va un grande ringraziamento perché quello dei punti vaccinali è uno degli impegni che ha visto impiegato il volontariato di protezione civile. Ovviamente tutto va in collaborazione col sistema sanitario, con gli operatori sanitari, quindi sono loro i protagonisti di questa vicenda. Noi stiamo cercando di dare il nostro supporto, il nostro coordinamento come è solito fare. E sono 7 i decessi legati al coronavirus che si sono verificati nelle Marche nelle ultime 24 ore. Tra le vittime c'è anche una settantenne pesarese. Invece i nuovi positivi sono 388. La provincia più colpita rimane quella di Pesaro Urbino con 100 casi, seguita da Ascoli Piceno con 84. Anche oggi si registra un netto calo di ricoveri. Negli ospedali della regione ci sono 22 pazienti meno rispetto a ieri. I degenti in terapia intensiva scendono a 79, mentre quelli in semi-intensiva, che sono in leggero aumento, salgono a 174. E oggi il direttore degli ospedali riuniti di Ancona, Michele Caporossi, ha fatto il punto sugli accessi sui ricoveri sanitari. Ha detto che sono a lavoro anche per ripristinare le prestazioni rimaste indietro a causa della pandemia. Sì, noi adesso abbiamo un allentamento della situazione rispetto a due settimane fa, che è tangibile, considerevole. Gli accessi al pronto soccorso sono molto pochi. Abbiamo ancora la coda, in quanto tutte le terapie subintensive, per esempio, sono ancora piene, 28 posti. Le terapie intensive sono piene a metà. Poi ci sono ovviamente i pazienti che sono nelle degenze ordinarie. Però non sono più i numeri di prima, eravamo arrivati oltre 150 persone, adesso siamo intorno ai 65-70 pazienti complessivamente. Quello che ci auguriamo è che questo incubo possa finire qui. Ce l'auguriamo con tutte le forze. Nello stesso tempo noi stiamo ritessendo la tela dell'assistenza ordinaria, di rimettere in campo tutti gli asset produttivi e delle varie prestazioni, specialmente di quelle di alta specializzazione e di quelle di alta intensità, che erano rimaste indietro. La Regione ci sta dando una mano proprio nel fatto di dire facciamo un piano unitario per la ripartenza e lo presenteremo nei prossimi giorni. Non c'è una data specifica, c'è sicuramente il fatto che contiamo in autunno, se non ci saranno altre ondate di questa pandemia, di poter arrivare alla normalità. Sono più di 38.600 le dosi di vaccino Pfizer arrivate oggi all'aeroporto di Ancona a Falconara per essere distribuite ai punti di somministrazione delle marche. Inoltre dopo il via libera dell'Agenzia Italiana del Farmaco da oggi verranno distribuite in Italia anche le dosi di vaccino Johnson & Johnson. Nella circolare del Ministero della Salute si legge che per questo vaccino si raccomandano le stesse condizioni di utilizzo dell'AstraZeneca. Quindi può essere utilizzato a partire dai 18 anni di età ma dovrà essere somministrato in modo preferenziale a persone di età superiore ai 60 anni. Grazie al piano delle riaperture predisposto dal Governo lunedì molti studenti torneranno in classe ma per le superiori c'è stato un dietrofront. Si ricomincia soltanto con il 60% degli alunni. Partire con il 60% degli studenti in presenza per poi arrivare il prima possibile al 100%. La regione Marche di intesa con il sistema scolastico segue la linea della prudenza per le superiori consigliata dal Governo e dagli esperti della sanità. Diversi infatti nodi ancora da sciogliere primo fra tutti quello dei trasporti. La riapertura sarà graduale mano a mano che il trasporto pubblico ovviamente si organizzerà di conseguenza. Noi abbiamo l'obiettivo di far ritornare in breve tempo tutti i ragazzi in presenza al 100% perché questo è l'obiettivo che abbiamo avuto sempre. È ovvio che dopo ci sono anche delle criticità organizzative e sappiamo che il settore dei trasporti è il settore quello più problematico. La regione è al lavoro da parecchio tempo per questo, l'assessore Castelli è al lavoro per questo e quindi io spero che a breve ci sarà l'opportunità di poter far rientrare tutti i ragazzi al 100%. La regione inoltre ha siglato un accordo per dare vita al progetto scuola in ospedale. L'obiettivo è quello di aiutare i bambini e i ragazzi che a causa di gravi patologie non possono tornare in classe. Un supporto per le nuove generazioni per garantire il diritto allo studio in sicurezza a casa o nei nosocomi. Il sistema di istruzione marchigiano ha un ulteriore servizio in più, si arricchisce di questo ulteriore servizio. Quale servizio? Il servizio di istruzione domiciliare rivolto ai ragazzi che sono, ahimè, gravati da una situazione patologica e che conseguentemente non possono accedere a scuola e allora in questi casi la scuola va presso i ragazzi. Dove? A casa loro, laddove sono ovviamente domiciliati a casa per la causa di questo loro evento patologico o presso gli ospedali. Quali ospedali? Quelli ovviamente dove sono ricoverati. In più, sempre grazie alla decisione della regione di ampliare la rete scolastica, è stato attivato un nuovo punto di erogazione, un nuovo plesso quindi scolastico all'interno, si diceva, dell'ospedale qui di Ancona, rivolto in particolare ai bambini cardiopatici, ai ragazzi cardiopatici che appunto sono, ahimè, perché ovviamente sono gravati da questa malattia, ospitati presso l'ospedale. Il governo oggi pomeriggio ha approvato in Consiglio dei Ministri il nuovo decreto con le misure anti-Covid. Da lunedì tornerà la zona gialla e si potrà tornare al ristorante. Qualche imprenditore però preferisce attendere ancora a causa delle basse temperature, mentre altri comunque non potranno riaprire per mancanza di spazi all'aperto. Tavoli distanti al menú metro, personale sempre con la mascherina e menú digitali o in stampa plastificata. Nel calendario delle riaperture che caratterizzano il mese di maggio, i bar e i ristoranti saranno i primi a riaprire, a pranzo e a cena, ma si conferma il coprifuoco dalle 22 alle 5 del mattino. Le nuove norme che si applicano ad ogni tipo di esercizio di somministrazione di pasti e bevande contengono tutte le regole per garantire la sicurezza, evitare assembramenti, distanziamento, privilegiare l'accesso tramite prenotazione e mantenere l'elenco dei clienti per un periodo di 14 giorni. Anche a Fano gli imprenditori sono al lavoro per sistemare i locali tra ottimismo e perplessità, in particolare sulle condizioni meteo. Infatti c'è chi, come Filippo Ravagli, ha deciso di attendere qualche giorno in più e di riaprire l'attività il 28 o addirittura il 30 aprile. Quanti clienti potete accogliere? Ho tutti i tavoli da quattro, se sono famiglie o se sono amici sono distanziati almeno di un metro e mezzo, un metro e venti, un metro e trenta nel loro raggio d'azione e posso far star fuori sono 48-56 persone, dipende se sono tavoli singoli o tavoli da quattro. Ma questa cosa solo dell'esterno è un bel problema perché io compro, ho ripronotati, chiamo il personale per fare un weekend tipo questo che si sta per aprire del primo di maggio, ma qui se mi fa tempo cattivo, mi fa un colpo di vento oppure fa due gocce di pioggia, io devo disdire tutto. Cioè se io ho un'urgenza, quel giorno mi piove, il minimo posso portarli dentro oppure ciao e arrivederci. Non tutti però potranno ripartire da lunedì, infatti chi non ha gli spazi all'aperto è costretto ad attendere il primo giugno quando sarà permesso il servizio anche al chiuso nella fascia dalle 5 alle ore 18, un duro colpo per chi tiene aperta l'attività soltanto nei mesi invernali. Noi non avendo posti all'aperto rimarremo chiusi. Noi siamo a tutti gli effetti un locale stagionale, stagionale-invernale, in quanto apriamo i primi di settembre e chiudiamo a fine maggio non avendo appunto posti all'aperto come ripeto. E io mi ero già attrezzato dei primi di settembre come vedete con questi pannelli in plexiglass poco invasivi ma molto efficaci e avevamo avuto anche un bel riscontro da parte della nostra clientela che insomma aveva apprezzato molto però a quanto pare sono serviti molto poco perché in effetti di 9 mesi che siamo aperti abbiamo lavorato soltanto 5 settimane piene e poi gli altri periodi dove abbiamo potuto lavorare solo a pranzo. Vi sentite un po' discriminati in questo senso? Discriminati. Il problema fondamentale dal mio punto di vista è che per l'ennesima volta sono state prese delle decisioni da persone che comunque non conoscono il nostro settore. Sono nate tante associazioni sia qui da noi a Fano come Ristori Italia che conoscerete sicuramente ma in tutta Italia. Io credo che sia giunto il momento che esponenti di queste associazioni che sono a tutti gli effetti cuochi, camerieri, baristi, ristoratori vadano a parlare cioè siano ammessi anche loro nei tavoli dove si prendono le decisioni su come riaprire perché altrimenti queste discriminazioni come dice lei o comunque questi lavori fatti un po' con i piedi non cesseranno mai non ne usciremo mai. Intanto i comuni si stanno attivando per agevolare bar e ristoranti e riaprire all'aperto negli spazi pubblici. Lunedì 26 aprile inizierà il percorso graduale verso il ritorno alla normalità dopo l'annuncio del Premier Draghi sulle riaperture di bar e ristoranti ma soltanto con i tavoli all'aperto gli imprenditori sono già all'opera per organizzarsi anche con i permessi. D'altra parte i comuni come quello di Fano si sono attivati per agevolare le attività tra le iniziative quella di semplificare l'iter burocratico e di concedere un aumento degli spazi pubblici occupati. Innanzitutto il decreto in arrivo in un somma dà sicuramente un'apertura anche se sappiamo non essere sufficiente perché il momento di crisi economica è davvero pesante però veramente speriamo che sia l'inizio di un'apertura graduale che porti tutti a lavorare e da lavorare al meglio e speriamo che questa estate sia proprio il momento di grande apertura che detti la fine di questa pandemia quindi la possibilità di chiedere suoli all'aperto noi ci siamo attivati fin da subito cambiando il regolamento e dando la possibilità di chiedere fino a 100 metri quadrati di suolo pubblico ci siamo attivati per rendere gratuita la TOSAP e ci siamo attivati con una commissione che si incontrerà anche mercoledì proprio per sburocratizzare le richieste di suolo pubblico e quindi emettere i permessi in modo più veloce possibile cerchiamo di fare quanto è il nostro possesso per essere vicini alle attività economiche in questo periodo così difficile sappiamo che le misure che possiamo fare noi come comune non sono sufficienti ma da parte nostra sempre una grande vicinanza a tutte le attività economiche e una possibile ripartenza al via le domande per ricevere il bonus palestre l'aiuto del comune di Pesaro rivolto ai soggetti privati titolari o gestori di palestre corsi di fitness o scuole di danza con sede operativa nella città gli interessati potranno farne richiesta da oggi fino al 28 aprile il bando si trova nell'albo pretorio del sito del comune di Pesaro e coloro che faranno domanda potranno ricevere fino a un massimo di 3000 euro tutti i dettagli li troverete nel nostro sito occhioallanotizia.it e anche gli operatori balneari sono all'opera per riaprire le attività nel prossimo mese oggi Angelica Panzieri si è recata nelle spiagge di Pesaro per vedere come proseguono i lavori ma anche per sentire qual è l'umore dei bagnini Qualcuno ha già iniziato a verniciare le cabine altri addirittura a montare i pali degli ombrelloni anche a Pesaro i titolari degli stabilimenti balneari guardano con ottimismo alla stagione 2021 ed hanno già sfruttato il bel tempo di questi giorni per portarsi avanti con i lavori di allestimento delle spiagge che secondo quanto annunciato dalla regione potranno riaprire i battenti dal primo maggio le marche potrebbero essere la prima regione d'Italia a partire così presto con un vantaggio notevole rispetto ad altre regioni come la vicina Emilia Romagna che ha invece previsto la riapertura per il 29 maggio io spero soprattutto nel bel tempo quello secondo noi dovrà essere il nostro vero alleato per farci sfruttare al massimo i mesi che ci daranno per l'apertura sperando di non dover incorrere in eventuali risalite del virus e eventuali chiusure abbiamo già livellato la spiaggia stiamo iniziando a pulirla e quindi contiamo entro la prossima settimana da avere la spiaggia non dico pronta al 100% ma sicuramente attrezzata e abbiamo sempre avuto distanze ben al di sopra di quello che dice il protocollo perché abbiamo la spiaggia divisa in due zone una da 16 metri quadri a ombrellone e una da 12 metri quadri e mezzo quando il protocollo sappiamo bene che dice 10,5 metri quadri quindi noi non abbiamo problemi non abbiamo perso un ombrellone l'anno scorso non ne perdiamo nessuno quest'anno anzi abbiamo aggiunto qualche ombrellone per le compagnie di ragazzi la voglia di ripartire c'è le richieste sono tante le persone hanno voglia di venire al mare non vedo l'ora di uscire di casa ovviamente vediamo che avete già piantato i pali degli ombrelloni sì qualche giorno che ci sono già anche perché così ci rendiamo conto di quanti ne riusciremo a mettere di ombrelloni perché molti clienti che l'anno scorso non hanno preso l'ombrellone per paura del covid quest'anno ce l'hanno richiesto i preparativi stiamo a gonfie vele stiamo procedendo con la verniciatura di tutte le cabine e l'attrezzatura da riportare giù diciamo che siamo a buon punto stiamo aspettando definitivamente la data di ripartenza e speriamo in un'estate buona quando monterete gli ombrelloni quando inizierete la stagione inizia il 29 maggio diciamo che aspettiamo adesso un ripascimento della costa vista l'erosione di tutti gli anni e di seguito a quella ripartiremo per farci trovare pronti in data l'auspicio per questa stagione 2021 qual è anche rispetto allo scorso anno ci sono state già delle richieste le richieste sì ci sono speriamo che sia un'estate buona soprattutto all'insegna dell'ottimismo che si possa ripartire perché ce n'è proprio bisogno e speriamo che si possa vivere più in tranquillità e che con i vaccini e tutto si possa ripartire in modo definitivo si è perso mentre percorreva un sentiero del monte Nerone ha lanciato l'allarme ed è stato ritrovato dai vigili del fuoco disavventura oggi pomeriggio per un 38 anni che intorno alle 16 ha richiesto l'aiuto dei vigili del fuoco i pompieri intervenuti dal distaccamento di Cagli in un primo momento avevano allertato anche il soccorso alpino ma in breve tempo intorno alle 17 grazie all'elicottero proveniente da Rezzo l'uomo è stato individuato i vigili del fuoco si sono calati col berricello lo hanno recuperato l'hanno trasportato in buone condizioni dai colleghi di Cagli che erano rimasti nelle vicinanze cambiamo argomento per la galleria della Guinza l'iter di approvazione del progetto per la riapertura in fase avanzata e i lavori potranno essere appaltati con tutta probabilità entro il 2021 lo fa sapere Alessia Morani deputata del Partito Democratico che oggi ha incontrato l'amministratore delegato di Anas Massimo Simonini per fare il punto sulla Fano Grosseto dopo il via libera della commissione gallerie si attendono i pareri delle direzioni infrastrutture del MIT e del Ministero della Transizione Ecologica questo spiega Morani consentirà di rimuovere il principale ostacolo per il completamento della Fano Grosseto aprendo una galleria di sei chilometri chiusa da trent'anni Simonini ha anche assicurato che una volta nominato commissario ufficialmente incontrerà gli enti locali per condividere le fasi di realizzazione dell'opera si chiama L'arte della gioia ed è l'ultimo libro dello scrittore Enrico Vergoni l'autore che è nato e cresciuto a Marotta di Mondolfo ha racchiuso in questo volume le sue poesie per trasmettere speranza e fiducia nell'avvenire dopo un duro e lungo anno di pandemia Ho scelto questo titolo davanti alle terribili immagini dei camion dell'esercito che a Bergamo trasportavano i feretri delle vittime di Covid ho pensato che la poesia in un momento come questo dovesse trasmettere speranza e fiducia per l'avvenire perché ogni inferno ha un tempo solo ma poi la vita ricomincia sempre la gioia se le diamo spazio riprende a invadere le nostre giornate con queste parole il marottese Enrico Vergoni descrive l'arte della gioia per tu ogni editore il libro curato dal fanese Bruno Mokorovic è uscito contemporaneamente in italiano e in spagnolo appassionato di letteratura antica e da sempre impegnato nel volontariato e nell'associazionismo Vergoni è anche autore di Tango e Cenere il romanzo in poesie è uscito in 35 paesi e di Lettera a una figlia entrato nella classifica dei libri più venduti su Amazon in Messico e in Bolivia il mio ultimo libro si chiama l'arte della gioia da oggi disponibile in tutte le librerie italiane raccoglie tutte le mie poesie degli ultimi due anni ho avuto un titolo che trasmettesse positività speranza fiducia per l'avvenire perché se togli la gioia dalla poesia non serve a nulla poi perché penso che in un momento come questo che è un periodo molto simile al dopoguerra occorra ricostruire viviamo in un paese che ha bisogno di ricostruirsi dopo questo anno tremendo quindi l'arte della gioia come prendere in mano il proprio paese e ricominciare più forte di prima dal prossimo anno scolastico prosegue Vergoni avrò l'occasione di presentare il mio libro anche nelle scuole d'Italia da Milano a Messina grazie alla collaborazione di istituti e associazioni culturali intanto questa estate Enrico farà tappa in decine di librerie e di teatri un poeta senza pubblico così come un musicista o un attore è sterile non serve a nulla quindi andiamo in mezzo alla gente torniamo dopo un anno di clausura torniamo finalmente in mezzo alle persone in qualche modo la sua infanzia e il suo legame con Marotta influisce nel suo scrivere dico sempre che se non fossi nato a Marotta non avrei scritto nulla avrei fatto altro Marotta è una città magica c'è una luce particolare il nostro mare i racconti di mio nonno che faceva il pescatore mi hanno sempre suggestionato quindi parto sempre da lì ho pubblicato 200 poesie le ho scritte tutte a casa mia non riuscirei a scrivere nulla fuori dalla mia città poi Marotta è la città del mare d'inverno quindi c'è la poesia già nella luce del nostro mare ed ora quali sono i suoi progetti? i progetti per il prossimo anno è quello di andare in giro in Italia in Francia e soprattutto in Sud America dove i miei libri hanno avuto sempre una grande fortuna il prossimo anno usciamo con un romanzo quindi cambiamo genere però non i sentimenti non quello che amo comunicare come dicevo all'inizio speranza e gioia è questo il compito di uno scrittore e adesso diamo spazio alle vostre segnalazioni che oggi ci portano a Lucrezia di Cartoceto dove gnoti hanno gettato diversi sacchi contenenti pannelli in plexiglass 15-20 rotoli di lana di vetro sulla riva del fiume Metauro già segnalato l'abbandono di questi rifiuti al sindaco Enrico Rossi ci ha scritto il nostro telespettatore ma a distanza di un mese nessuno ha fatto niente e i sacchi sono ancora lì tra l'altro con il rischio di inquinamento ambientale poco distante poi a circa 400 metri c'è stata segnalata un'altra discarica cielo aperto tra i rifiuti ci sono le tavole di legno vernici zaini e materiale di vario genere sempre oggi altre foto ci sono arrivate dalla zona di Sassonia a Fano queste foto le ha scattate stamattina le ho scattate stamattina ci ha scritto reporter di strada lungo la passeggiata di Lisippo di fianco alle panchine si è rotta la pavimentazione io ero con un bimbo di 4 anni che poteva finire con il piede incastrato e dunque una situazione pericolosa questa era l'ultima notizia del nostro telegiornale tra poco andrà in onda la dodicesima puntata di Oltre la Bici invece l'informazione torna domani mattina alle 7 in diretta con il commento alla stampa del nostro direttore Marco Ferri buona serata